...con i velociti, con il corso migliore, con il corso migliore, con il corso migliore. Non ha ritenimento specifico con gli aerei, perché io penso che la vita è fatta anche di cose importanti che esprano dalle passioni di base. Vi lascio la luna, vi lascio la luna che mia madre lasciò a me, con lei le stelle brilleranno in cielo sempre uguali, e uguali le notti brilleranno i vostri sogni, vi lascio un sorriso, fatemi buon uso. Oggi il mondo non sorride più perché è in crisi di angoscia. Trasmettete allegria e guadagnerete l'amore del mondo. Vi lascio la mia storia vergata con la mano della speranza, perché non ho riacchistato il coraggio di essere nel fiero, ma credo che la verità sia un uccello che non sa più cantare. Nervesa, 2 maggio 2015, Nadia Leggiani. Grazie per la speranza, grazie per la speranza, grazie per la speranza. Grazie, grazie. E poi mi è che devo dare un annuncio, l'annuncio del fumo mi è che voglio silenzio saluto, da là a là, e per il nostro amico Uwe Reze, ma italiano di traduzione e soprattutto un bravo pilota, E' il carico di yes? Yes! E' il carico di yes? Yes! E' il carico di yes? Yes! Yes! E' un GRG speciale per fulmine, oggi ha fatto lui lo spiego, e per fulmine tutti i suoi collaboratori, GRG! Yes! 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 Bene, allora abbiamo completato la presentazione, adesso non resta altro che sentire.